Volevo aggiungere che tanto ringraziare il commissario Vanni come regione Campania di poter rappresentare tutte le istituzioni, la fondazione, Vittorio l'ha detto prima, lo ringrazio sempre perché devo dire un'attenzione particolare e posso dire di amore per la regione Campania e per la città di Napoli. Quindi non solo la funzione propria del commissario Vanni, anche per tutte le questioni che voi avete seguito con lui per il grande progetto Pompei e quindi era giusta e naturale la sua presenza qui oggi. Per chiarire anche quello che può fare l'Europa perché la vostra domanda sempre è quante altre risorse si possono trovare per finanziare. Il commissario Vanni ha detto chiaramente che compete alle istituzioni locali e al governo italiano trovare le risorse per la ricostruzione, però come ha dato la disponibilità delle attività che l'Europa e la Commissione europea fa per sostenere, rafforzare la divulgazione scientifica, la ricerca, l'innovazione con tanti programmi che l'Europa mette in campo e quindi vale per il passato, per il presente e per il futuro che dovrà avere la città della scienza ancora come punto di riferimento. Per quanto riguarda il tema della localizzazione che mi pare che è il tema che appassioni oggi di più, il governo ha ritenuto di dover coinvolgere attraverso un decreto interministeriale quindi di fatto ha rafforzato una governance che già c'era tra le istituzioni locali e la fondazione Idis attraverso una struttura, un comitato fatto da tutti a partire dal comune che chiaramente ha le maggiori responsabilità anche se il comitato è presieduto dal professor Trombetti per ragione del più alto in grado istituzionale e anche per il curriculum e per il lavoro che ha svolto in questi anni per la divulgazione scientifica e la ricerca in Campania però di fatto sarà un organo collegiale quindi ognuno per le proprie responsabilità perché ogni istituzione ha le sue però si tenterà di lavorare come abbiamo sempre fatto in altre occasioni di lavorare insieme per la scelta migliore questo è l'obiettivo con un punto fermo mi pare ovvio che abbiamo escluso dal dibattito e il comune l'ha detto dal primo giorno e noi condividiamo questa posizione che non si parla di una delocalizzazione che pure era un dibattito in città e questo ci sembra ormai chiaramente da escluderlo come punto di partenza il resto si dovrà discutere all'interno di questo comitato in cui ci saranno tutti presenti grazie grazie grazie